Questa iniziativa a Crotone ha un senso veramente molto forte, perché mettervi tutti insieme significa che volete far sentire la vostra voce e volete il rispetto delle regole? Beh, se siamo qui vuol dire che naturalmente è un'iniziativa forte, perché il pescatore è un tipo di mestiere che non si ferma né con maltempo né con niente. Purtroppo oggi il caro Gasolio ci ha fermati non solo qui, siamo stati a Schiavonea, siamo stati su Roma, su Cadanzaro Lido, abbiamo girato un pochettino quasi tutte le marinerie. Purtroppo il caro Gasolio ci sta inginocchiando, anzi ci ha già inginocchiato, non solo noi pescatori, penso un pochettino a tutti, vediamo la gente che corre ai supermercati. Tutti noi abbiamo le barche legate alle panchine, speriamo presto in qualcuno che ci dà una mano, non di agevolazioni concrete per il caro Gasolio. Non abbiamo bisogno di proposte inutili, abbiamo bisogno di avere il gasolio a 40-50 centesimi come l'abbiamo avuto sempre fino ad oggi, perché siamo già in fallimento. Poi con questo caro Gasolio che sta aumentando giorno per giorno e da settembre qualcuno dice che le scuse della guerra e di tutto il resto, ma non è vero, perché noi già da settembre che ogni settimana stiamo mettendo Gasolio a 5-10 centesimi in più, perciò è inutile che diciamo che è la guerra. Quindi il caro Gasolio ha messo in ginocchio il vostro settore e nello stesso tempo sta mettendo a rischio la vostra dignità lavorativa? Sì, sì, assolutamente sì, già da una settimana che noi siamo in stato di agitazione, pensate che ogni barca tiene 2, 3, 4, 5 famiglie di 5-4 persone a famiglia e non riuscire ad andare a lavorare o meglio decidere di non andare a lavorare perché è diventato veramente anti-economico è qualcosa di veramente assurdo nel 2022. Ora ad oggi ci stiamo dando nel mondo del lavoro, vediamo solamente lavoro, però vi ripeto ci ritroviamo solamente in perdita. Come lavoriamo, lavoriamo, ci ritroviamo solamente in perdita. Da dicembre a questa parte ci troviamo il triplicato, il prezzo del Gasolio. La produzione del pesce è quella che è, tra i mal tempi, tra cose, e ora combattere anche questo caro Gasolio triplicato è veramente assurdo con le nostre imbarcazioni, è veramente qualcosa di non accettabile. Quindi preferiamo non uscire in mare e stare fermi, piuttosto che andare a mare già in perdita, solamente nell'accensione del motore. È veramente anti-economico andare a lavorare, oggi come oggi.